Salve a tutti da Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza guide certificate per una durata superiore ai 10 minuti perché la vita è breve ma l'arte è lunga in questo video vorrei presentarvi un prodotto, un'applicazione di Read, Write, Think il viaggio dell'eroe, Hero's Journey, chiedo scusa per il mio inglese che è un'applicazione che fa riferimento al noto monomito dell'eroe dai mille volti il testo in cui nel 48 Joseph Campbell, antropologo, studioso di mitologia, mitografo e quindi studioso di storia delle religioni, di filosofia eccetera eccetera, aveva individuato la struttura invariante che caratterizza tutti i racconti mitologici che hanno come protagonista un eroe e il ciclo, l'arco della sua trasformazione individuando 17 momenti o fasi e facendo riferimento anche alla psicologia dell'inconscio collettivo di Jung definendo cioè anche degli archetipi di riferimento come l'eroe stesso, l'eroina, il lato oscuro cioè l'antagonista di Prop, eccetera qui trovate anche dei link che specificano meglio e approfondiscono il modello del viaggio dell'eroe di Campbell bene, Vogler in tempi più recenti, sceneggiatore della Disney scrive un testo chiamato il viaggio dell'eroe in cui semplifica lo schema di Campbell e il viaggio dell'eroe diventerà un po' la bibbia di Hollywood da Lucas che scrive Guerre Stellari ispirandosi consapevolmente ed esplicitamente a Campbell fino al Re Leone, sceneggiato dallo stesso Vogler tante, tante storie Hollywoodiane faranno riferimento produzione Hollywoodiane faranno riferimento a questo circolo ebbene, Redrive Think offre una piccola applicazione che ci permette di costruire delle storie utilizzando il monomito del viaggio dell'eroe renderò disponibile questa presentazione con il link che contiene nella box descrittivo del video che pubblicherò su YouTube qui vedete una schermata del viaggio dell'eroe come sempre per le applicazioni di Leggi Scrivi Pensa è un'applicazione estremamente semplice che può essere utilizzata in tutti gli ordini e gradi di scuola e che non richiede assolutamente lunghi periodi di apprendimento si usa rapidamente e questo ci permette di privilegiare l'attività didattica e di concentrarci sulla creazione individuale o collettiva, cooperativa di una storia qui trovate un link con una recensione scritta da me se avete interesse a leggerla del viaggio dell'eroe volevo anche studiare un'altra cosa è interessante anche per la biografia per meglio dire per la scrittura creativa ma anche per la narrativa autobiografica il raccontarsi perché in effetti, se torniamo indietro il viaggio dell'eroe rappresenta la vita di qualsiasi individuo le sfide che tutti noi affrontiamo e le trasformazioni cui andiamo incontro infatti come sottolinea Campbell ma anche Vogler abbiamo uno schema tipico a tre atti una situazione iniziale con una rottura dell'equilibrio un percorso che si attua nello spazio ma che è anche una discesa del protagonista negli inferi della propria coscienza e quindi un fare i conti con se stesso con il proprio lato oscuro che segna una crescita, una trasformazione quando nel terzo atto la soluzione è il ritorno all'equilibrio che non è più un ritorno all'inizio perché l'eroe ormai è trasformato si risolve appunto il viaggio del nostro eroe quindi è un viaggiare anche dentro se stessi ecco, chiarite tutte queste cose andiamo adesso a vedere questa applicazione qui trovate il link eccoci sul sito di ReadRedThink come sempre dobbiamo cliccare su Get Started io ho dovuto consentire all'uso di Flash e qui abbiamo un nome io scriverò il mio nome e il titolo del progetto e scriveremo come al solito prova a questo punto possiamo cominciare qui trovate, l'ho tradotta nell'articolo che vi ho linkato una breve descrizione di quanto io vi ho detto sul tema del viaggio dell'eroe anche qui un'introduzione qui ho fatto riferimento e finalmente partiamo dunque qui l'ostacolo è l'inglese qui troviamo dei suggerimenti ma insomma quello che dobbiamo fare è indicare il nome e la descrizione dell'eroe ecco qua ho scritto Gianfranco tutti i superpoteri a questo punto posso tornare all'introduzione o cliccare su Anteprima andiamo su Anteprima e qui mi si dice che dalla prossima schermata io potrò editare il mio testo tornare al menu principale o stampare ma stampare solo quando si sono concluse le operazioni bene Gianfranco e superpoteri se scendiamo vediamo la nascita la nascita inusuale particolare dell'eroe poi abbiamo da riempire la chiamata all'avventura quindi il momento in cui all'eroe viene proposta una sfida qui dovremo inserire ovviamente il nostro testo qui dovremo inserire il testo della sfida e così via procedendo secondo lo schema di Vogler perché in questa applicazione di Reddry Think ci si è rivolti allo schema semplificato di Vogler quindi la chiamata all'avventura allora viene deve lasciare la sua la sua casa e la sua vita ordinaria e cominciare un viaggio che lo porterà in un regno straordinario in un mondo straordinario quindi l'aiuto sovranaturale dell'eroe e quindi il mentore la guida colui che lo addestra colui che gli rivela i segreti talismani o armi speciali e qui scriveremo la nostra arma poi l'attraversamento della soglia quindi il momento in cui viene marcata la soglia che separa il mondo ordinario dalla realtà meravigliosa straordinaria in cui l'eroe affronterà le sue sfide quindi qui abbiamo l'attraversamento e poi a procedere abbiamo il viaggio con le sue sfide con gli amici nemici gli alleati e quindi i vari personaggi che incontro cui l'eroe deve combattere o che aiuteranno l'eroe come vedete si tratta semplicemente di una tabella che noi dobbiamo riempire è un lavoro che possiamo tranquillamente fare anche in modalità per così dire analogica cioè con carta e penna ma insomma questo è carino e può essere stimolante e motivante il raggiungimento dell'obiettivo la riconciliazione che è spesso soprattutto per Vogler ma anche per Campbell la riconciliazione con una figura paterna si pensa a Star War a Darth Fener e a Luke e poi finalmente il ritorno a casa con l'eroe trasformato a questo punto possiamo o tornare indietro per modificare qualcosa vedete oppure stampare e quindi stamperemo il risultato della nostra attività e potremo utilizzarlo per costruire la nostra storia quali possono essere gli usi didattici del viaggio dell'eroe bene possiamo utilizzarlo non solo come abbiamo visto adesso per costruire una storia magari soprattutto il docente documentandoci prima un po' meglio c'è tanto materiale anche in italiano sullo schema sul modello del monomito di Campbell degli archetipi del viaggio dell'eroe di Vogler ma possiamo anche usarlo per analizzare un racconto una storia usando questa scheda dopo aver letto il racconto la compileremo in modo da avere un'analisi di quella che è la struttura narrativa del viaggio dell'eroe proprio del racconto che abbiamo letto naturalmente possiamo anche sia che usiamo la scheda per analizzare una storia sia che la usiamo per comporne crearne una nostra utilizzare poi la scheda stampata per ridiscuterla per cambiare qualcosa o per discutere i punti essenziali del racconto che abbiamo letto e via dicendo bene ho terminato purtroppo non sono riuscito a superare la soglia dei 10 minuti comunque vi lascio augurandovi una buona giornata e sperando che questo video possa esservi utile arrivederci